E' importante scegliere l'anello giusto per la riparazione valvolare mitralica perché ci sono vari tipi di patologie valvolare mitraliche e quindi per garantire un maggior successo a lungo termine è fondamentale scegliere l'anello giusto. L'intervento di anuloplastica mitralica è un intervento di riparazione non di sostituzione nel quale viene riparata la valvola mitrale e non sostituita. Si va ad agire sia sull'apparato valvolare, sia sull'anolus, sia sull'apparato cordale, quindi su tutta la struttura tridimensionale della valvola mitrale. La riparazione ha sicuramente dei vantaggi in termini di sopravvivenza, di qualità di vita e una miglior performance delle funzionalità cardiache a medio e lungo termine. Quindi sicuramente dove si può va sempre fatta la riparazione mitralica e non la sostituzione. è interessante il concetto di video in the box perché ci fa vedere come fare certi tipi di procedure, quindi come si fanno certi tipi di procedure. A vedere live quello che fanno anche altri chirurghi ci fa magari pensare a quali sono le possibili modifiche che facciamo nella nostra pratica quotidiana. Quindi il video in the box è utile per vedere come si approcciano al paziente, diversi tipi di chirurgia, diversi centri. Grazie. 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 Grazie.